Un carissimo saluto al Presidente della nostra Milan Academy, approfitto per salutare tutti i suoi collaboratori, i suoi tecnici. Per noi è fondamentale e molto importante essere presenti anche in Singapore, siamo presenti in tantissimi paesi del mondo dove portiamo i nostri metodi di lavoro e quindi vogliamo far fare un'esperienza diversa, divertente, importante a tutti i bambini che parteciperanno. Quindi mi augurio che questo rapporto continui perché vogliamo crescere con voi e quindi ci teniamo. Un abbraccio e un carissimo saluto da parte di Franco.